Ciao Swifamily! Siete pronti ad entrare nel fantastico mondo di Bing? Quindi, stay calm, mettetevi comodi e... SIGLA! Hola Swifamily and welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super Bing video! Ebbene sì, perché come avrete ben capito, oggi ci immergeremo totalmente nel fantastico mondo del coniglietto Bing. E sì, lo so, molti di voi sono già grandicelli e magari quella tipologia di cartoni animati, comunque personaggi, non la seguono più. Però ammettete che almeno una volta nella vostra vita avete visto Bing, cioè all'età di 30 anni io stesso guardo Bing. Però magari se dovete fare un regalo di Pasqua, eccetera, eccetera, e la persona a cui dovete regalare un uovo di Pasqua piace e appassionata di Bing, perché non guardare anche questo video? Perché non ritornare un po' dietro nel passato e tornare un po' così fanciulli? Io raga adoro Bing, se non l'avete ancora capito. E quindi oggi sono qui per aprire insieme a voi l'uovo di Pasqua Dolphin di Bing e poi andremo ad aprire la terza cosa sbabam che troverete nelle prossime uscite in edicola. O meglio, le nuove Blind Bag Wave 2 di Bing! Esattamente, perché sono quelle che si dividono in gioco pappa e nanna. In quale nanna tra l'altro le basette, cioè quelle che tengono in piedi i personaggi, si illuminano al buio. E quindi niente raga, però prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando lasciatemi un bel like a questo video. Se siete nuove e volete far parte, anche voi della Magica Azul Family, iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. E inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, o meglio Instagram, la mia pagina TikTok e bassa. Ed è proprio di Instagram che vi voglio parlare, perché se mi followate, vi terrò compagnia con foto, post, stories, trash e tanto altro. Vi porto nella mia seconda vita oltre YouTube, cioè praticamente quello che faccio tutti i giorni. Nel senso, non so, oggi ho cucinato il manzo alla Wellington e quindi il filetto alla Wellington e quindi l'ho postato su Instagram. Ho comprato una serie a TV che vedrete nei prossimi video e l'ho postata su Instagram. Cioè raga, vi tengo aggiornati sulla mia vita giornaliera. E detto questo, cominciamo. Allora, io direi di cominciare dall'uovo di Pasqua e poi ci teletrasportiamo nella mia postation. Quindi, cominciamo. Questo qua è l'uovo di Pasqua di Bing! È distribuito da Dolphin, è cioccolato al latte finissimo. All'interno c'è scritto che ci sono allegre sorprese. La carta, come vedete, è super coloratosa. Qua sull'etichetta ci sono quasi tutti i personaggi. Sì, quasi tutti. C'è il nostro Bing. L'ho pagato 8,99€ e l'ho trovato alla Conad, ma l'ho visto anche in altri supermercati. Tra l'altro, negli altri supermercati c'è anche il pupazzetto allegato. Ok, apriamo! Oh my god. Fatemi sapere in che situation è la vostra regione. Qual è l'uovo di Pasqua che desiderate aprire. Fatemi sapere il vostro disagio da zona rossa. Raga, sono curioso di sapere tutto giù nei commenti. Che poi pian piano leggerò tutti per bene, non di fretta. E commenterò. Ottimo. E poi avete richiesto delle uova di Pasqua particolari che ci sto mettendo un po' tanto a cercare, a trovarle. Tipo quella di Lion e quella delle principesse. Non le trovo, non le trovo nel mio paese. Ma sono sicuro che ve le porterò. Ok, ci siamo. Cioè, è più grosso il porta uovo che nell'uovo, ma pazienza. Ottimo. Perfetto, aperto. E cosa ho trovato? Sembrerebbe un astuccetto. Vabbè, il cioccolato, non sto neanche qua a dirvelo. Mi piaccia quasi tutti, perché c'è anche chi non piace il cioccolato. E questa è la sorpresa. Mi sembra anche una bella sorpresa, così, ad occhio croce. E sì, è un astuccetto, raga. Un astuccetto che, vabbè, per i più piccoli può andare bene anche ad andare a scuola, o eccetera. E per i più grandi, va bene, non so, per metterci dentro un po' di cianfrusaglie da mettere nella borsa, eccetera. Mi piace come sorpresa. È top! È un'ottima sorpresa e per 8,99€ ci sta. Più cioccolato ci sta. E adesso, dopo l'uovo di Pasqua, vabbè, ovviamente ci immergiamo nelle blind bag che mi ha inviato. Sbabam! Perciò, 3, 2, 3, 2, 1, postation! Ed eccoci qua, Zwill Family, finalmente catapultati nella mia magica postation. E continuiamo ad immergerci sempre di più nel fantastico mondo di Bing con le blind bag by Sbabam. Questa qua è la Wave 2 e si dividono in gioco, pappa e nanna. In totale sono 12 personaggi, tutti da collezionare e fanno parte, sì, della bella giornata. Perfetto. Costano 3,99€ la bustina. E in allegato, ovviamente, abbiamo il suo mini magazine, super coloratissimo, con dentro minigame, stories and other. Ottimo! Cominciamo perché sono mega curioso. Allora, blind bag numero 1 e all'interno troviamo, troviamo, lei! L'elefantina fantastica che io adoro! Cioè, ma poi raga, guardate quanto sono definiti e quanto rispecchiano i personaggi veri e propri del cartone animato. Cioè, addirittura l'elefantina hanno messo nella versione gioco, questo è il gioco, è la fase della giornata gioco. Hanno pitturato le mani perché lei stava pitturando e si è sporcata le mani di due colori diversi. Colori che sono ripresi anche sul suo vestitino. E sì, ok, questa qua è la sua base, la sua base. E, vabbè, qua ci, all'interno poi troviamo la sua carta d'identità. Anche con dei mini game all'interno della carta d'identità. E abbiamo trovato Sula nella versione gioco. Ottimo! Andiamo avanti, dopo Sula guardiamo che abbiamo trovato. Secondo me qua abbiamo trovato la formichina. Boh, mi dà l'idea. Essendo piccina picciò, perfetto. Sì, difatti abbiamo trovato la versione pappa della nostra, eccola qua, della nostra flop. Ottimo! E guardiamo com'è. No, vabbè, bellissima anche lei. Cioè, fantastica. Con la banana, guardate quanto è bella. Super coloratosa. E top! E poi ha la sua base con un solo appiglio. E lei rimane in piedi. Andiamo avanti, andiamo avanti. Guardiamo. Chi sono? Oddio, ho trovato Baby Bing! Fantastico, no? Vabbè, ma questo è bellissimo. Adoro alla follia. E abbiamo trovato un Baby Bing nella versione gioco. Con la sua carta di identità. Con i suoi due, comunque, disegni da colorare. E si tratta di Charlie gioco. Così. E anche lui ha il suo piedistallo. Andiamo avanti. Terz'ultima, terz'ultima blind bag. Abbiamo trovato Bing nella versione gioco. Vabbè, carta di identità con disegni da colorare. E guardate la bellezza di Bing. È veramente bellissimo. Cioè, fatto a regola d'arte. Lo adoro. E anche lui ha in mano dei pastelli. E sta disegnando con la sua base rossa. Ottimo. Andiamo avanti. Penultima blind bag. E abbiamo trovato il Panda. Sempre anche lui in versione gioco. Qua vabbè, disegni da colorare. Ed è Panda gioco. Guardiamolo perché lui è veramente bellissimo. Cioè, raga. Guardate quanto è puccioso e super teneroso. Lo adoro. Ha la follia anche lui. E infine, speriamo di aver trovato almeno una nanna. Per vedere come funziona la base che brilla. Guardiamo, guardiamo, guardiamo. Pappa. No, non abbiamo trovato nessuna nanna. E abbiamo trovato questo. Con i suoi disegni e minigame da colorare. Ed è Amma Pappa. Guardiamolo. Anche lui fatto benissimo, bellissimo. Cioè, raga. Questi personaggi in Spagna. Li vendono come miniature tipo i puffi. E costano 5-6 euro. Cioè, costano tantissimo. A differenza dei 3,99 euro di Sbabam. Cioè, adoro. E rieccoci qua. Sui family di ritorno dal mondo di Bing. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Perché se vi è piaciuto, mi raccomando. Lasciatemi un bel like. Se siete nuovi e volete far parte. Anche voi della Magica Sui Family. Iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. E inoltre, vi aspetto anche su tutti i miei social network. O meglio, Instagram. E la mia pagina TikTok. Io per adesso vi mando un super mega bacio svirloso a tutti. E noi ci vediamo prossimamente con un altro e fantastico video. Ciao!